Negli episodi qualcosa non è andato, ma nella prestazione ancora meno, perché abbiamo sbagliato l'atteggiamento, siamo stati poco squadra e non abbiamo fatto quello che abbiamo sempre fatto nelle ultime partite. Quindi è giusto che vada a fine così, se poi dopo tutti contro una signora squadra non usi le tue armi. La vera Ternana deve essere quella che non concede regali all'avversario. Il risultato è frutto di tante cose, ma la prestazione non deve essere sbagliata. Si vede che sia io che i ragazzi oggi non siamo stati quelli giusti. Da là bisogna continuare a imparare e cercare di capire come non si devono ripetere queste prestazioni e tornare a fare quelle di prima. Sì, loro stanno giocando così, però a di là dei meriti a Bellino che ci sono, ci sono tanti dei meriti nostri oggi.